Siamo qui contro le tante che mette il governo ai pensionati. Ci sta diminuendo le pensioni, dobbiamo difenderci giorno per giorno per poter vivere. Siamo qui perché siamo scontenti del nostro governo. Non fa niente per i giovani, specialmente per gli anziani. Vi hanno portato a questa manifestazione. Voglio dirvi che non siete soli. Per protestare contro la politica del governo Berlusconi che penalizza i più deboli, i pensionati, i giovani e vogliamo cambiare questo stato di cose. Ora, adesso. Il problema di tutti i giorni, il problema di fare la spesa, il problema di pagare le tasse, il problema di pagare la benzina, il problema di tutto, di mandare i figli a scuola, di trovare un lavoro per i giovani, per noi pensionati che alla fine del mese quasi quasi non ce la facciamo più. E poi cosa vuole sapere? Più di così non saprei cosa dire. E per mandare a casa questo ben detto governo! Hamid Massomilegiotti, Roma